eccoci qua ragazzi si continua e fiamma e niente dobbiamo madonna tu eri là ok continuiamo con jack e l'avventura alla caccia di kong madonna che strage che è successo allora io mi ricordo quando ero da solo qui madonna che ansia perché erano pieno di nemici però essendo che hanno modificato qua mi mette un po' di ansia madonna eccoli bello dove? là? ok eccola mena qualcuno ha buttato uno in operaia ho visto e ho notato dopo c'è la fuga con kong oh madonna oddio ha carrellato malissimo sto voraccio no 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 amori lo te catturamo lo devo ammazzare forte ecco perché mi ricordo che ero da solo ah ma questo non muore ah ora è morto ah ora mi ricordo infatti ero ecco che ero da solo no ricordavo questa parte che ero da solo lo odio perché indovinate un po' aiuto mi ricordavo che ero da solo infatti devo ritornare qua perché devo salvare a quelli ho capito mo arrivo ah un po' lag per non bagnare ottimo ce lo fa mi ricordo eh ma io non ho armi non ho niente ho capito ti sta a sbattere destra male eh mo mi ricordo che arrivano due bestioline appunto sta buono queste ero delle sottospecie di raptor infatti io c'ero smettila non è il momento non mi aiuti meno male che questi me li ricordo un po' a memoria ecco un altro in arrivo devi peccare il momento giusto eh il momento ho capito arrivo e dice che è un problema con il raptor qua però mi ricordo che c'era qualcun altro là la donna che ansia ma non ce l'ha si ho capito perché non ho un'arma non so questo questo gioco era bravo a far tenere l'ansia aia ho capito infatti non ho ricordato che eh aia ha fatto malissimo vabbè vabbè muo mi curo ok e lo devo raggiungere a quell'idioto là sopra ma non ho un'arma qualco madonna che ansia no io l'ho questo gioco è molto bello ma sai il fatto eh devo correre eh appunto ok no oh meno male presto madonna che ansia no perché affrontare tutte ste bestie da solo mette ansia in questo gioco eh ho capito e basta a te dare un altro qualcun altro qualcun altro ti prego dimmi che è qualcosa di interessante oh oh Jack eh Carla non mi stai aiutando per niente madonna quanto ne sono là con il fucile a pompa sarà no e sono caduto male ah boh ma non c'è qualcun altro ok per te prego prendi ok no guarda l'ansia mi fa venire quello disgraziato allora devo stare attento resisti ok ce l'ho fatto uh vai ce la faccio va pure Non è il momento Cacchio Eh grazie ho notato Ok Dov'è? Eh ho notato che sono secco Cavolo Evidentemente è una cosa Allucinante Ma chi me l'ha fatto fare Dov'è? Ahia Eh ho capito Jack 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 Però Madonna che culo Oh dove? Eh sì sì Non mi sta aiutando Ah muore questo stronzo Questo bastardo Hai rotto il cazzo Tu hai capito che ho sprecato Un fucile a pompa E una pistola Bella madonna Che ansia Ok Ho sprecato Mamma mia Beh almeno siamo in due Grazie Madonna che Solo a pensare che mi hai fatto fare Sprecato munizioni E una cosa cucinare Ancora? Basta Mi avete rotto Il cappio Oh Il prossimo Dove? Oh ciao Mamma mia Ti giuro Non me lo ricordavo così Cioè allora Mi ricordavo che io stavo con l'ansia a palla Da bambino E ancora tuttora mette ansia a palla Dopo questa Credo che questa sera sta La sta fatta per tutti E qua sono sbagliato di incontrare altri predatorini del cavolo Che ovviamente Che ovviamente a me Vanno addosso Parla per te Dan qua grazie Ancora insiste Come se non ti è bastato Madonna fatica La tiene questa in bocca Aspetta Qua ce ne stavano due di nascoste Ok No Vabbè Come l'ho detto Su con la vita Jack Stai scrivendo le pagine migliori della tua carriera Davvero? Non lo sapevo Vabbè Andiamo? Grazie Sono riuscito a girare un paio di riprese mentre quel demode mi portava a spasso Sono un genio Non vedo l'ora di vederle Ah scusami era per te giusto Vabbè Tanti siamo arrivati a un punto di check out Che Come si chiama? Un punto di restoro Pausa Vabbè andiamo Madonna che casino brutto Dai andiamo Madonna che casino Tieni duro Carlo Certamente Non abbiamo tempo da perdere Kong ci sta aspettando Ok Bene raga Qui del 38 Al prossimo video si continua Vi faccio questi video brevi Perché comunque faccio per ogni singolo capitolo Perché alcuni possono durare un po' di più Alcuni un po' di meno Bene raga Qui del 38 Passo e chiudo Bene raga